Sulla carta si chiama semplicemente mercato, ma in realtà è un po' una fiera, ma anche una grande festa, una rassegna di prodotti tradizionali e non. Insomma, alla fin dei conti, si tratta di una mega manifestazione che porta ogni anno ad ottobre, nella capoluogo della Valpusteria, un vero e proprio fiume di gente. Un fiume con una portata che uscilla tra le 20 e le 25 mila persone. È il mercato di Stegona, frazione della città di Brunico, diventata famosa appunto per aver dato i Natali al più grande mercato del Tirolo. Il mercato di Stegona fonda le sue radici nel lontanissimo undicesimo secolo, quando vide la luce il primo mercato di bestiame e generi misti che, con il passare degli anni, si è trasformato in una tra le più importanti e imponenti kermessa tradizionali dell'Alto Adige su Tirolo. La novità di quest'anno è il collegamento del mercato di Stegona con il cuore pulsante della città di Brunico, come spiega lo stesso sindaco Roland Grismayer. Già storicamente c'era questo collegamento, però questo collegamento è stato fatto in un'interpretazione nuova, con un mercato dei contadini, con una festa per i bambini e con un mercato dei pulci. Per cui con queste tre cose è stato fatto questo collegamento, in tal maniera che tutti che vengono qua, cittadini di Brunico, della pusteria, ospiti da tutte le parti, sia dal nord che dal sud, possono vedere e amerare Brunico interamente dalla città, dal centro della città, al mercato, qui che veramente possono passare una giornata bellissima nella nostra città. Inaugurato lunedì, alla presenza delle autorità, il mercato di Stegona, grande variopinta festa popolare, in un divertente miscuglio tra bancarelle che offrono ogni tipo di mercanzia, venditori di castagne, wurstel, polli, zucchero filato e quant'altro, botteghini, lunapark, musicanti e artisti di strada, si concluderà mercoledì 28 ottobre, una ultra consolidata tradizione questa che si rinnoverà puntualmente anche il prossimo anno.